Ciao, io sono Laura. Dai, vieni che ti faccio vedere la casa. Velocemente perché devo andare al lavoro, eh? Sì, un attimo. Quindi, almeno posare la valigia. Dai, andiamo, dai. Laura, vieni? Qui c'è il bagno. La carta igienica è di da qualche parte. E mi raccomando, non buttare in eccesso gli assorbenti perché appuntano. Buona serata. Grazie. Grazie. La lì c'è, non c'è, è scappata il lavoro. Ah, vabbè, comunque io ho pensato che sarei passato. Quindi, dentro un attimo, c'è, devo dire spiaggia. Ah, no, no, no. Com'è, sì. Ma che sei? Io sono Laura. Vieni, io stavo dispiaciando le valigie. Mi sono appena arrivata. Ah, no, va. Questa è la mia camera, bella? Sì, bella. Eppure con comodo, eh? Sì, sì. Sono tutta contenta. Poi io posso mettere la musica di qui. Ah, sì, dai, ne avevo tutto bisogno. Guarda, questa è la. Sì, è la mia camera. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.